Piers Morgan ha colpito il principe William dopo che il Reale ha inviato un messaggio di buona fortuna alle leonessis inglesi prima della finale della Coppa del Mondo Femminile. Scusandosi per non essere in grado di partecipare al Big Match in Australia questo fine settimana, il principe William è apparso accanto a sua figlia, la principessa Charlotte, per inviare gli auguri alle leonesse nella finale della Coppa del Mondo Femminile. Ma il dolce messaggio ha scatenato la furia di Piers Morgan. Nel video messaggio alla squadra inglese tramite la piattaforma di social media X precedentemente nota come Twitter il principe di Galles, 41 anni, ha rivelato che non sarebbe stato in grado di arrivare alla partita in Australia. L'annuncio ha fatto infuriare Piers, che ha ritenuto, ridicolo, che la regina di Spagna fosse presente alla partita per sostenere la squadra del suo paese, mentre William sarebbe stato assente, nonostante il suo ruolo di presidente della FA. Piers ha ripubblicato la clip dall'account ufficiale di Kensington Royal, che conteneva la didascalia Buona Fortuna per domani Chiocciola Lionessis. Il conduttore di Talk TV ha poi risposto. Con rispetto, YRH, avresti dovuto salire su un aereo. Ridicolo che la regina di Spagna, partecipi alla finale dei mondiali per sostenere la squadra della sua nazione. E tu non ci sarai nonostante tu sia il presidente della FA. Arriva dopo che l'erede al trono è stato filmato seduto su una panchina accanto alla figlia di otto anni sua e della principessa Kate, la principessa Charlotte, che teneva in mano un pallone da calcio, per consegnare il messaggio. William ha esordito dicendo, Leonesse voglio farvi un grandissimo in bocca al lupo per domani. Siamo spiacenti di non poter essere presenti di persona, ma siamo così orgogliosi di tutto ciò che hai raggiunto e dei milioni che hai ispirato qui in tutto il mondo.